Signori, stiamo per ammarare. Preparatevi, siamo arrivati. Siamo già a Tahiti. Si tratta di galeotti, non si può essere schizzinoso. Ancora ordini, padre? È stabilito che i detenuti devono lavorare per me. Mi avete messi nella forza. Chi è che aggiusta il tetto? Voi altri. Ragazzi, siamo diventati missionari. Con Frank Sinatra e Spencer Tracy, Il Diavolo alle 4. Mercoledì, alle 20.55.